allora buon pomeriggio da italia zulu 4 victor che bexierra vinco quasi sempre è il quasi che mi frega e oggi pomeriggio facciamo una prova perché frequento cattive compagnie e che ti mettono in testa di divertirti con le verticali e allora in 20 metri proviamo così ma una verticale molto molto semplice allora due cose sul setup molto molto easy ft8 e 17 alimentazione a batteria meno di 5 metri di cavo classiale rg 58 proprio il più scaccio la verticale che non è altro che è lo stilo della mfj di circa 5 metri e una bella selva di radiali alla base sul cavo classiale ho messo delle ferrite una decina di ferrite e ho tirantato la verticale perché sennò è molto molto debolino e vediamo un po cosa dice il nano vna allora con mia grande soddisfazione sembra che sia perfetto su tutta la banda dei 20 metri grazie a tutti Andrea, il tuo rapporto è 5.9 plus, 5.9 plus, la mia condizione lavorativa è 5 Watt, solo 5 Watt e una verticale antenna, grazie mio amore, 73, paka paka. Italy, Zulu 4, Victor, Queen, Sierra, Italy, Zulu 4, Victor, Queen, Sierra, Italy, Zulu 4, Victor, Queen, Sierra, portable QRP. Sierra, QRP, portable station, I copy you, 5,5,1, 51, my name is Greg, Golf Romeo, Echo Golf, over. Roger, Roger, Greg, il tuo rapporto è 5.8, 5.9, la mia condizione lavorativa è 5 Watt e una verticale antenna, sull'antenne, verticale antenna sull'antenne, una verticale antenna sull'antenne, per il resto del ruolo. Un bello contatto con te sul lungo passaggio. Ho sconato 400 Watt. Allora, ho fatto i lunghi passaggi. ...la нее to SCDX3000, India, Zulu 4, Victor, Queen, Sierra, IQRP, e to Google K2, Golf, Julie and Charlie, over. Roger, Roger, Greg, grazie, grazie per questo corto QSO. and good contest in this weekend bye bye 73